Il distratto non è secondo me il termine giusto, però c'è tanto da lavorare, dobbiamo trovare una coesione di squadra, di linea difensiva, ci stiamo lavorando tanto, stavamo facendo la partita e mi dispiace trovare questo episodio, ci è girato tutto veramente normale e speriamo di migliorare. Difficile secondo me dare un termine perché comunque si può sempre migliorare anche verso la fine del campionato, sicuramente si stanno vedendo di passi in avanti e speriamo già dalla partita di domenica di stravolgere comunque i pensieri di tutti e di trovare un punto di partenza e una coesione che ci dia la sbancione per fare bene. Girone senza dubbio l'ho scelto anche per questo, il girone è complicato, l'ho fatto di entrambi la e noi e questo è sicuramente più difficile e quindi noi dobbiamo migliorare soprattutto dal punto di vista caratteriale perché è quello che ci serve secondo me per fare il salto. Tante squadre in questo girone, soprattutto la Cavese per esempio, che andremo a incontrare, che è una squadra in difficoltà ma che preparerà la partita soprattutto da questo punto di vista, da questo punto di vista caratteriale, quindi secondo me è questo che farà differenza. Si è parlato di una squadra più tecnica e meno operaia, questa circostanza può essere discutibile? Ma è senz'altro un'analisi che può essere giusta, come ha detto anche il mister in conferenza, noi abbiamo fatto una cesta delle maniche, abbiamo fatto sporcarci e calarci nella parte. Come sta il bomber Cianci? Come stava e come sta? E come stavate voi quando 300 tifosi continuavano ad applaudirvi alla fine? Ma il bomber sicuramente era il più dispiaciuto sabato sera, ha chiesto scusa a tutti e sicuramente conoscendolo per il ragazzo che è, se prima davo al 100% ora ne darà il doppio, sono sicuro di questo. Mentre per i tifosi sono stato veramente uno spettacolo, anche a fine partita continuavano ad applaudirci e parlando fra di noi abbiamo detto che dobbiamo ripartire proprio da queste persone che ci hanno dato così tanta fiducia e lo stesso pubblico da Avellino ha ammesso che era stato uno dei pubblici più belli negli ultimi anni visti allo stadio. Ma sicuramente dobbiamo prenderci la responsabilità e quindi io la reputo una gara fondamentale, importantissima, quindi senza ombra di dubbio questa settimana a testa più basso dovremmo, senza parlare, lavorare, lavorare, lavorare.